Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla Terra Restore Inizio questo video dalla Chambers of Valor Perché ho farmato tante cose Anche se non ci sono nei miei inventari Perché giustamente sono un coglione e le devo prendere Ma se non sbaglio c'ho una Ender Chest qui Esatto E quindi ho farmato le essenze Quelle della Sunshine e della Water Ce l'avevo già alla fine dello scorso episodio Io ho farmato Dile Cold e della Flame La Flame sono arrivata a 20 precise perché ne avevo due E onestamente non ci avevo per niente voglia Però volevo sbloccare le caverne Perché volevo i diamanti Volevo i diamanti perché volevo sbloccare l'enchanting In modo da farmi degli incantesimi più potenti 20 di tutte le essenze Ed è esatto Quindi facciamo così Così E così E in teoria dovremmo sbloccare la caverna 4 Per sbloccare la caverna 5 invece Vediamo cosa serve Servono 30 Di tutte le essenze 30 E quindi dovrò rifarmare un casino Perché si stesse Pavoneggiando il fatto E io ho scoperto Tu hai citato Perché ti sei givvato le essenze Seriamente Come si fa a givvarsi un oggetto Con Fortuna 1 che non sia un piccone O una Ascia Seconda cosa Il sottotitolo La descrizione Race of Sunlight In my name from this Insomma quello Che nel comando è chiamata lore Farla diversa Farla innanzitutto In corsivo E di colore diverso dal titolo Che ho cercato In teoria Non si può fare Dovrebbe aver installato Uno mod Il creatore Perché non è possibile Seconda cosa Seconda Vabbè Insomma Altra cosa Scoprire Il comando Che fa tutto insieme Ma Ma sei scemo Cioè io faccio Ho detto questa cosa Per quelli Che lo stanno pensando Che stanno pensando Che mi fossi cittato Questi oggetti Non è possibile Perché Proprio Con i comandi Fisicamente non puoi ottenerli Cioè Credo che abbia installato Una mod Il creatore Oppure Qualcosa del genere Perché Una mod Una sottomod Via Diciamo così Che poi Io in realtà I diamanti Li potrei tranquillamente Trovare nei dungeon Diamanti Però non c'ho voglia E facciamo un attimo Weather clear Dove devo andare Dove devo andare Che non mi ricordo Ah si Devo andare di sotto Devo andare di sotto Per vedere la caverna Quattro giustamente Vedere la caverna Quattro Vedere che cosa Contiene la caverna Quattro Se contiene I diamanti Siamo a cavallo Se non li contiene Abbiamo un problema Perché vuol dire Devo sbloccare Anche La caverna Quattro In teoria È questa qua Ok si Spero contenga Dei diamanti Anche Tipo Due Vanno bene E oh mio dio Cos'è questa cosa C'è del quarzo Addirittura Che cazzo Ma vi drogate Tantissimo Ma andatemi Diamanti No Ok Posso avere dei diamanti Sa che non ci sono I diamanti In questa cosa Perché non è possibile Guarda su Che c'è Mi Sembra Del ferro A parte tutta L'esperienza Che è chiaramente Molto positiva E buona Ragazzi Come al solito La mia fortuna Scarseggia un sacco Perché si C'è un blocco Di diamante Intero Nella caverna 5 L'ho scoperto E quindi Devo farmare Altre Cosi Madonna Ragazzi Mamma Mia Io Non ho Parole Ce l'ho Fatta Ho tutte E 30 Le essenze Di tutti i tipi Ne ho prese 30 Per ognuno E basta Perché non volevo Dilungarmi Veramente In cose Stupide Per cui Sblocca Questa cosa Per favore E finiamola Qui Oh mio Dio Ho sbloccato Tutte le caverne Vi chiederete Che cosa ci fai Con queste cazzo Di caverne Ve lo mostro Subito Non appena Riesco Ad Andare Alla Miniera Che è Uuuuui Adesso che ho sbloccato La caverna 5 Che è Che è di qua Come vedete Già c'è Tantissima lava Che non mi Che cazzo C'è Cosa Quanti blocchi Di ferro Ci sono Quanti blocchi Di No 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 Vabbè Raga Che cosa Ho sbloccato No Non avete idea Vi faccio esplodere un po' Di TNT Per far laggare Eccolo il blocco di diamante Lo sapevo Che c'era Perché mi ero informato Cazzo Porca Di quella Puttana 9 Diamanti Mamma mia Troppo forte C'è altro? Non mi sembra ci sia altro Meglio così Da una parte Perché Perché stare a cercare Un blocco di diamante Per tutto Il tragitto Onestamente Non avevo voglia Quindi Torniamo Al Monumento Perché In teoria Non so So della canna Da zucchero Lì Perché per farla Enchanting table Mi servono Quattro pezzi Di ossidiana Che potenzialmente Ho Potenzialmente Ce l'ho Vero? Allora mi servono No Non è vero Non ce l'ho Mi servono Mi serve un piccolo Di diamante Ce l'ho Ce l'ho C'ho il legno C'ho il legno C'ho il legno Facciamo Torce Ok Facciamo il piccone Di diamante Perché mi è andato Getting an upgrade Non l'ho capita Quindi Considiamoci due diamanti E questi quattro diamanti Vabbè Metteremo Non lo so Nell'ender chest Nell'ender chest Dove lo metto Dove lo metto Qua Mettiamolo qua Allora c'abbiamo il libro C'abbiamo No non ce l'abbiamo L'ossidiana Però potenzialmente Potenzialmente posso farla In che modo posso farla Mi conviene tornare Alla miniera E in particolare Alla miniera 5 Perché come abbiamo visto Ma lì c'è una mucca No ce l'abbiamo Non l'ho capita Madonna mia Cosa stava Per succedere Tra l'altro Qui prendiamo Tutta l'esperienza Tattica Molto tattica Molta è andata Anche persa Bruciata Vabbè Spero non si Prolunghi la lava Ma in teoria Non dovrebbe Succedere Esatto Aspetta un attimo No No Ok Madonna mia Fermi tutti In teoria Quando c'è Ok Esatto Vedi Madonna Siamo a 4 Sì Ok Quindi possiamo potenzialmente Tornare già su Si va Dov'è che si va Di qua Giusto Enchanting Perfetto Spero più che altro E non bisogna Utilizzare altre cose Più avanti Enchanting room Devo pubblicare qui Mi teno Enchanting room Perfetto E in teoria Adesso Se Noi Andiamo Alla base Ci dovrebbe Essere aperta Oh Eccola qui Che cosa Sei ma Questa Bellissima Enchanting room Cos'è questo Più 1 level grunter Costa 1 essence of the flame Water Sunshine E cose Che dire Più 1 level grunter Ah ti aggiungi un livello Proprio Vabbè E Ti dirò Prima Non mi serve Tra l'altro Inchantiamo il piccone A questo punto E Facciamo così Unbreaking Unbreaking Efficiency Ci dà solo Ah no Ci dà anche Efficienza 4 Unbreaking 3 Possiamo metterci Qualcos'altro Ma in realtà Non ci interessa Ti dirò Lo scheletro Ma muori male Bene Siamo al dungeon Quindi Tu muori Magari Anche tu E In teoria dovrebbe bastare Spero E invece no Ok C'è un Delictful Infobox Che vorrei Ah no E' un Ah c'è un Secret Titan Qua C'è una Ricetta Una terra restore Come in tutti I dungeon Insomma Uno Smeraldo Boia Power Punch Efficiency Niente Lì Che Mi Vesto Madonna mia Quanti ce ne sono Ecco Esploso Ecco Esploso Che cozzo è Questo dovrebbe essere il Secret Titan Ma non riesco manco a leggerlo Quindi Un attimo la Gui Scale Small Come al solito Gravitational Energy Più 10% Speed Federfalling Protection Unbreaking E questo Unbreaking Protection Villa Madonna 3000 volte meglio Nonostante mi dia Un cuore in meno Ma chi se ne frega Del cuore Dimmi La rapida Me la d'oro Due smeraldi Madonna Ragazzi Carbone Panini Molto bene Perché mi servivano Che cazzo di zombie ci sono Ma basta State consumando la spada Ah c'era il Terra Restore Qua sopra Pezzi di merda Schifosi Schifuse Quattro smeraldi Quattro smeraldi Mettiamoli subito via Madonna Anche l'essenza Il Terra Restore Mettiamo via Mettiamo via tutto Altro smeraldo E altro Melender Chest E la ricetta E la ricetta pure C'era qua Cioè c'era Sia la Terra Restore Che la ricetta Troppo forte Grandissimo Grandissimo Non devo più cercare niente Mi manca solo la rana Mi manca solo la rana Cioè seriamente Cioè dai Ma qua Ah qua c'è un po' di casino Ma non ne puliamo Più o meno Ok Un altro stack di torch Bello pronto Bello pronto Madonna mia Smeraldo Panini Mela d'oro Federfoli in quattro Che non mi serve Legno Rifiglia Vabbè Basta Posso Disponerà anche la sopra Posso Disponerà anche la sopra Siamo realisti Non potevo colpire Veramente tutti Ok Ok Non capisco Oh Non c'è Ecco Ecco Madonna Meno male C'ho il Depth Strider Sono qui Dove devo andare Andare di là Ok Perfetto Sì eh Pensavi di spararmi Volevi spararmi Speronzo Qua c'è un labirinto Insemi No non è vero Non è mai nella vita un labirinto Cos'è qua Two surface Ah Trovata la lana Cazzo Perché mezzo petro Normale Mezzo petro No Non ho capito Non l'ho capito Questo Però l'importante È che abbiamo preso La lana Qua su Dietro C'era uno spawner Di creeper Che non avevo visto Mai nella vita Nell'esistenza E di qua Dove si va C'è la prossima area Sewards The greist Barber Aspetta 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 L'esperienza La prendo Perché è sempre buona Mi sa Che comunque Però c'è Qualche Shortcut Del genere No Non ci credo Guarda dove sono Sono praticamente dove Ok Ho capito Tra l'altro Scandiamo Un po' di Ah ma non è il pane Ma vaffan Cura Pezzo di merda Fatto Che fosse il pane C'è una roba Ok Torniamo giù Ragazzi Dobbiamo andare avanti Dobbiamo andare avanti E C'è un ender chest Qua Sfortunatamente Non c'è nessun ender chest Magari c'è più avanti Però Quindi cosa c'abbiamo Le prossime due aree E le solite tre cose Da prendere Come in tutti I dungeon Di questa mappa E va bene Ah 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 Ok 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 Cosa facciamo Sa che ho bisogno Di un'altra spada Oppure no No dai Siamo abbastanza veloci Abbiamo Un 10% Di velocità Che ci permettono Comunque Di fare Buone cose Questi li sciottiamo C'è un lungo tunnel Di bedrock Che in realtà Non ho ben capito E ok The wall separating Good and evil Non ho ben capito Ma va bene Dove siamo Esattamente E' un luogo particolare Oddio Chi sei Fallen guardian Mi hai droppato Gli stivali Con Feather folly Ciao a tutti Ok Smeraldo Questo sorry Study of magic Mi dice Diciamo Uno studio Di magia Qua che c'è C'è un'altra parte Si sale Tantissimo Però si saliva Anche di là Sono curioso Poi voglio salire Di là Sì Salì di là Cosa ho detto Madonna mia Quanti siete Nella vita Basta Basta Io devo andare avanti A spavare Perché il tanto Mi arrivano infiniti Sono infiniti Guarda Ci sono finiti Mi sono tolto Più di metà vita Basta Quanti Cristo Siete Quassù Perché Ma cosa vuoi Guardali Quanti sono Ho finito La spada Cioè Ho quasi finito La spada E manco a metà Del dungeon Probabilmente sono Mi osano Negativa Di questa armatura Che non ha Knockback resistance Però Oh Non si può voler tutto Questa la prendi Grazie Qua che è Sleeping chambers To cazzo Ma che cazzo Ma dove sponate Andra sopra qua Ok Minchia Basta Basta Sponare Smeraldo Panini Ecco Esploso Come ho fatto Madonna con l'ascia Madonna mia Ecco 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 Finito i blocchi Sei serio Madonna mia Finito pure i blocchi Ragazzi Cioè Pensate come Stom Che cazzo Open gate No 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 Non se ne parla Che cos'è questa roba Open gate Cioè io Appento in cancello E c'è un altro dungeon Ma non ho manco Finito questo E di qua c'è Un altro gate Forse E questo Dove cazzo Porto Ah Questo è sbloccato qua Ok Questa è una cosa buona Questa è una cosa buona Che cosa sei te Che cosa sei te Non ti voglio vedere Comunque ragazzi Io la chiudo qui Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Come vedete Iscrivetevi Nel prossimo episodio Finiremo Questa dungeon Della probabilmente Light grey wool E inizieremo Quello della lana Purple E probabilmente Spero sbloccheremo Altre cose Nella base In quel tempo Lasciate un mi piace Come vedete Iscrivetevi E ciao a tutti